La guerra è arrivata anche qui. E allora quando potrò tornare a suonare mamma? Dov'è? Si tratta di un vecchio violino? Beh, non vale molto. Di mio figlio. È tutto ciò che abbiamo. Stai bene, ragazzo? Sì, grazie. E tu? E tu, riportami quella palla. Hai sentito i miei amici? E questa cos'è? Ritammela! Aiutatemi, c'è un vostro! Il mio nome è Naila. E tu come ti chiami? Fadi. Oggi è l'alba, chi va anche l'uno? E ti immagino. Solo il saperti in salvo mi darà la forza di sopravvivere a questa orribile guerra. Non vedo l'ora di arrivare a Spess. Sarà un lungo viaggio. Aiuto! Vai incontro al tuo futuro, Fadi. Ci sarà sempre qualcuno disposto ad ascoltare. e che pare. Cosa? Cosa?